Quale sarà il suo apporto al progetto di Quiliano? Ho avuto un incarico dal Comune di Quiliano per fare un aggiornamento e una verifica della dreta escursionistica comunale preesistente e nell'apertura di nuovi sentieri. Quindi dovrò verificare anche la percorribilità dei sentieri dell'area comunale per poter poi valutare una fruizione escursionistica oppure con le mountain bike. Il tutto serve per realizzare una cartografia digitale ad uso dei cittadini e dei turisti. Quali saranno gli elementi presenti in questa cartografia? Naturalmente su tutto il territorio verranno mappati i punti di interesse, quindi poter essere di varie tipologie, storico, naturalistico, escursionistico, anche questi punti d'acqua che servono agli escursionisti per affrontare i sentieri. Quindi verrà valutato tutto il patrimonio storico, naturalistico del territorio, tale poi da essere rappresentato sulla cartografia.